Salve a tutti e benvenuti in questo sedice di episodio di FIFA carriera 14, 15, 16 a 7 carriera giocatore Siamo nella partita più importante di tutte Cambur contro la impossibile squadra NAC Che è una squadra famosa No, non la conosci ne... vabbè, fa lo stesso Notare il cambiamento da una maglietta giallo-blu a una maglietta blu e gialla Cacchio! Abbiamo le wings in... espulso, poverino Non vorrei dire cavolate Ma secondo me questo dovrebbe essere il quart'ultimo se non terz'ultimo episodio di FIFA 14 carriera giocatore Perché poi esce il 15 e appena esce lo prendo Le wings è stato sostituito da droste Exit con il pallone lo cross e mezzo per nessuno Comunque vi volevo dire, non so se siamo arrivati ai 1500 iscritti ma pallonetto ed è... Nooo! Ma di commentare il fuck you perché time perché ai 1500 avevo promesso di farlo ai 1000 quindi... Eh, commentate un po', fatemi domande Testro! Booyah! Backer! Boom! Porta vuota! Non ci credo! Nooo! Shocker crossa per Exit che si trova 1-1 per portiere in scivolata Exit non riesce! Non ce l'ho mai! E il Macrini in difficilissimo Exit che gol incredibile Exit poteva... Non poteva sbagliare... No, non poteva... Fui il primo tempo su PTT 2-0! E' entrato BARTO! Oh, oh! Come ho fatto? Non ci credo! No, palo! Un gol e un assist! Attenzione! Ha due punti dall'Ajax che deve perdere prima o poi! Eheh, è arrivato il poi! Inizia la partita e il tiro di Feldballe! Ah, sì sì, questo è gol! Questo è gol! Non ci credo! BAKER cosa ha fatto? Mamma mia che gol sì! Fini il primo tempo su puntesi di 1-0! Incrocio! Ma come ho fatto? Aia! Aia, vacci portiere! Non ci credo! Hanno pareggiato al settantesimo! Fischer! Quello che va a pescare! No, c'è ancora Exit in campo! Ok! Exit! Subito! Giù! A terra! 20 flessioni! Exit! Non ci credo! Ed è gol! E finisce la partita su punti di 3-1! E siamo primi in classifica! Cambur contro... Eh, eh, eh... Erenven... Eren... Eren... Erenven... 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 E c'è i cuoricini... Ma c'è i cuoricini sulla maglia! Ma davvero! Che carini! Massacriamoli! Sì, ma è impossibile che abbiano i cuoricini sulla maglietta! Ma non è una cosa normale! Exit cross... Ed è gol! Ma dai! Shocker! E finisce il primo tempo su punteggio di 1-0! Comunque segno... Finisce sempre 2-0 le partite che faccio io! O 3-1 con sempre due gol! Guarda, guarda, guarda come mi procuro un rigore! Oppure guarda come faccio... Gol! Tiro a giro! E ti spedisco a casa! Feldballe... Calcio di rigore! Sì, sì, sì! Espulso! Ha messo sul portiere! Non ha messo il giocatore! Exit un altro rigore! Vediamo se Exit lo sbaglia! No! Perché era il portiere di riserva! Sennò quello là si arrivava! Boom! Bucker dalla distanza! Oh, porca vacca Bucker! Calcio d'angolo! Shocker! Gol! Sono 6! Barto! E finisce la partita 6-0! No! Feldballe! Infortunato 3 mesi! Adesso voglio il cinese! Cambur contro Azz! De Graff! La Graffatrice! La Graffatrice! No! De Graff! No! Exit! Scavetto palo pieno! Ma figurati! Van Brackle il suo tiro dalla distanza! Van Brackle traversa! Testa parata! Exit! No! Che cosa faceva? Shocker per Exit! Che la butta dentro! Role! E finisce la partita! Su pute! E si finisce! Magari! Primo tempo! No! Non ci credo! No! Non ci credo! Rete! La Graffatrice! E Backe! E Backe! Palo! Vartoo! 3 a 0! E finisce la partita! E finisce l'episodio! 3 a 0! C'è fantastico! E quindi! Grazie a tutti per aver visto! Io sono ExitM77! Ho beccato come sempre 100.000 pali! E sono Valutazione76 il mio giocatore! E ciao a tutti!